Nella prossima puntata di Terra Amara, prevista per sabato 3 febbraio, si dipana una trama intensa. In una notte stellata a Ciukurova, un incontro destinato a cambiare il corso di molte vite si svolge sulle rive del mare. Un segreto nascosto per troppo tempo sta per essere svelato, ma una minaccia inaspettata incombe nell'oscurità. Mentre un anello di fidanzamento brilla alla luce della luna, un colpo di pistola risuona nell'aria. Akan, in un incontro carico di tensione con Kadir, rivela la sua decisione di cessare ogni commercio illecito. Con fermezza, propone a Kadir di sciogliersi dalla loro controversa società, offrendogli una somma per allontanarsi definitivamente da Ciukurova, luogo di vendette e segreti inconfessabili. Mentre Akan spera di liberarsi dal passato, Kadir è avvolto da un desiderio inestinguibile di vendetta, un fuoco che brucia ancora vivo nel suo cuore. La discussione si accende. Akan, inaspettatamente, riduce la sua offerta al 40%, minacciando di distruggere Kadir con prove compromettenti. Parallelamente, assistiamo a Betul, Shermin e Lutfie, assorti nella scelta di stoffe per abiti e corredi nuziali. Fikret, dal canto suo, sembra avvolto in un'atmosfera funebre, mentre Concetin visita il sarto per i suoi abiti. La serata del fidanzamento, organizzata con fasto e raffinatezza da Shermin, si rivela un crogiolo di personalità influenti, un palcoscenico di eleganza. Durante la celebrazione l'atmosfera si fa solenne quando il presidente prende la parola. Amici di Ciukurova, oggi si celebra un legame speciale. Fikret e Betul, due pilastri della nostra comunità, si uniscono. Tutti sono toccati dalle sue parole, mentre Fikret e Betul scambiano anelli sotto gli occhi attenti degli invitati. Con l'inizio della musica, però, tutto cambia. Fikret e Betul si lasciano andare in una danza. Il sorriso di Betul risplende mentre ascolta Fikret dire «Ora siamo fidanzati e presto saremo marito e moglie». Betul risponde con un filo di voce «Perché io?» E Fikret guardandola negli occhi promette «Te lo meriti! Sarai felice! Te lo garantisco!» La loro promessa è sigillata da un ballo che attira l'attenzione di tutti, fino a quando gli occhi di Fikret non si posano, gelosi, su Hakan e Zuleia. Nel frattempo, alla tenuta, Gaffur e gli altri domestici sono impegnati a giocare, quando Gaffur viene colto da un improvviso attacco di fame. Gaffur, visibilmente affamato, percorre i corridoi fino alla cucina, ignaro che il pericolo è già dentro le mura di casa. Vaap, il maniaco, si insinua furtivamente nella stanza di Zuleia, alla ricerca di qualcosa che cattura la sua ossessione. Così si impossessa di una scarpa di Zuleia. Ma distrattamente provoca rumore. Gaffur, all'udire un fruscio insolito, crede sia la nonna a vagare e si lancia alla sua ricerca. Ma l'imprevedibile gioco del destino gli riserva uno scontro inatteso. Si ritrova a tu per tu con Vaap. Un urlo di sorpresa. «Un furfante!» risuona tra le mura. Vaap, impaurito, estrae un coltello e, in un gesto disperato, colpisce Gaffur alla gamba. Poi fugge via. Gaffur, colpito e in preda al panico, chiama a gran voce soccorso. I lavoratori della casa, allarmati dalle sue urla, corrono in suo aiuto. Nel frattempo, Vaap, in fuga nel suo veicolo, non può celare un sorrisetto soddisfatto di chi si è impossessato di qualcosa di prezioso, la scarpa di Zuleia. Alla festa, intanto, regna un'atmosfera di gioia e leggerezza. La danza avvolge tutti, inconsapevoli del dramma che si sta compiendo altrove. Fusun, osservando Sermin, condivide un pensiero con le sue compagne. Vedetela, si atteggia a ragazzina, eppure è una donna in toto. Si leva un mormorio di voci che alternano ammirazione e invidia. Presto toccherà il cielo con un dito. Chi non lo farebbe con una simile fortuna? Fusun, però, scorge la signora Lutfie, visibilmente a disagio, che si muove con passi carichi di malinconia, quasi sperasse nella fine rapida della serata. Nel cuore di Lutfie, un tormento oscilla. È davvero una celebrazione di matrimonio quella che sta vivendo, o piuttosto il presagio di un addio? Poi, l'inaspettato colpo di scena, Rashidi rompe tra la folla. Signora, signora, è successo un guaio. Un malvivente è penetrato in casa ed è scappato. A queste parole, Zuleya esce di corsa dalla festa, con Hakan al suo fianco. Fikret, in procinto di lasciare, cattura l'attenzione di tutti. Lutfie lo affronta, dicendogli con insistenza, Zuleya non è partita da sola, il tuo posto è qui, accanto a chi sarà tua moglie. Sermine e Betul, cercando di mascherare il proprio disagio, osservano Fikret, che appare visibilmente distratto e turbato per Zuleya, soprattutto dopo aver ascoltato le parole di Rashid. In ospedale, Ghaffur, in preda al panico, urla disperato, temendo di aver perso l'uso della gamba. La situazione si rivela però meno grave di quanto temuto, scatenando una serie di equivoci e situazioni comiche. Zuleya, Chetín e altri accorrono in suo aiuto, solo per scoprire le esagerazioni di Ghaffur, che porta tutti a ridere di cuore. Mentre le celebrazioni si esauriscono, Sermine riflette sulla serata con un senso di compiutezza. È stata una serata incantevole, tutti si sono goduti il momento. Lutfi e con una punta di ironia annuisce. Certo, è stata una serata splendida. Che la fortuna sia con noi. Poi, con un'occhiata a Fikret, propone Che ne dici di un caffè? Ma Fikret, ancora assorbito dai recenti eventi, declina. Devo controllare come sta Ghaffur. Ci sarà tempo per il caffè. Sermine, comprensiva, accetta con un sorriso. Lutfi e Fikret si avviano verso la villa. Intanto, in un angolo riservato, madre e figlia, Sermine e Betul si confrontano con le loro insicurezze. È troppo chiedere un giorno di pura gioia senza che qualche ombra lo offuschi, lamenta Sermine con una nota di frustrazione. Questo fidanzamento sembra già in bilico. Betul, con una calma apparente replica, «Tranquilla, sono ufficialmente fidanzata, vedi?» E mostra il suo anello. Sermine, difficilmente mascherando la sua delusione, insiste. «Sì, ma ora aspetta a te fare la prossima mossa. Non hai alzato la voce con Fikret. Con tono deciso ma confortante, Betul la rassicura. Non ti agitare, ci sposeremo e io metterò tutto a posto». La villa si trasforma nel teatro di un'indagine poliziesca, con gli agenti che arrivano per fare luce sul furto. «Sebbene non sembri esserci stata nessuna perdita, l'aria è carica di sospetti». I giorni passano e Gaffur inizia a riprendersi. Gaffur fa ritorno dall'ospedale, continuando a lamentarsi per il dolore e a chiedere cibo insistentemente. Sanye, preoccupata, si dirige in città per acquistare le medicine, ma si trova immersa in pettegolezzi sul fidanzamento di Betul. Lutfi e Fikret condividono un momento intimo, contemplando la possibilità di iniziare una nuova vita a Istanbul, lontano dalle sofferenze di Cukurova. Fikret prende una decisione difficile, lasciare Cukurova. «Se resto qui, soffrirò di più a causa di Zuleya», ammette con tristezza. Fikret aveva sperato che il tempo l'avrebbe aiutato a dimenticare il sentimento che prova per Zuleya, ma non è stato così. Il racconto si intreccia con Zuleya che raggiunge gli uffici dell'azienda Yaman in cerca di notizie su Mehmet. Le dicono che lui deve ancora arrivare. In un gesto inatteso, la segretaria le porge un pacco misterioso. Zuleya, con mani tremanti, lo scarta per rivelare una collana di una bellezza abbagliante. Da Mehmet riceve un breve testo. «Dobbiamo parlare di qualcosa di vitale. Ti aspetto stasera nel nostro solito luogo». Un sorriso si dipinge sul volto di Zuleya. Mentre Mehmet Kara, che in verità è Akan sotto mentite spoglie, si svela a Zuleya con un nome falso, Mehmet, per nascondere la sua vera identità da nemico di Demir Yaman. Venuto con intenti di vendetta, il suo cuore ha preso un'altra direzione, rapito dall'incantevole Zuleya, e con lei la sua sete di vendetta si è attenuata. Altrove, Mehmet si trova faccia a faccia con Abdul Qadir, annunciandogli che il tempo per meditare sull'offerta per il 40% delle azioni, è evaporato. Qadir, dopo un momento di contemplazione, cede all'accordo, ma con una postilla decisiva. «Deve poter rimanere a Ciukurova, visto che è il suo paese natale. Hakan accetta, ma ad una condizione, cioè che non lo infastidisca. Il manto della notte si stende su Ciukurova, e Zuleya si prepara con attenzione per l'appuntamento con Mehmet. Mentre si abbellisce, Lutfi appare sulla soglia, la preoccupazione evidente nella sua voce tremante. «Dove ti stai dirigendo?» indaga. «Ho un incontro con Mehmet, dobbiamo discutere di una questione di una certa importanza», spiega Zuleya. Lutfi, con la dolcezza di una figura materna, mostra apprensione per l'accelerazione della loro relazione e la possibile delusione che potrebbe seguire. Zuleya, però, è un'immagine di tranquillità. Tranquilla, Mehmet è di buon cuore. La conforta, poi Zuleya lascia la villa per trovare Mehmet. Sulle rive del mare, Zuleya e Mehmet si ritrovano. L'aria è carica di promesse e romanticismo. Mehmet, con un briciolo di ansia mista a devozione, osserva Zuleya, non trattenendo un complimento per la sua bellezza risplendente. I suoi occhi si fermano sulla collana da lui donata. «L'hai messa», constata in un soffio di voce. Zuleya, con un sorriso di sincera approvazione, ribatte «Mi ha colpito, è naturale che la porti». Mentre si accomodano per la cena sotto le stelle, la curiosità di Zuleya la spinge a sondare il motivo dell'incontro. Mehmet, senza preamboli e con un'aria solenne, le confessa «Devo rivelarti due cose, non sono tipo da tergiversare». Poi, con un gesto deciso ma carico di emozione, le presenta un anello di fidanzamento e la domanda è semplice e diretta «Vuoi diventare mia moglie?» Zuleya resta immobile, un turbinio di pensieri la invade e si alza per contemplare l'orizzonte. E in quel frangente, nell'oscuro riparo delle ombre, Vaap mira insidiosamente verso Mehmet. Dopo un istante che sembra eterno, Zuleya rompe il silenzio. «Non stiamo forse correndo troppo?» La risposta di Mehmet è un fiume di certezze e amore. «Desidero trascorrere ogni giorno che mi resta al tuo fianco e farò di tutto per vederti felice». Il sorriso che sboccia sul viso di Zuleya è la sua risposta. Accoglie l'anello e il loro bacio sigilla la promessa. «Ti amo», le sussurra Mehmet con tenerezza. Ma mentre sta per svelare un altro segreto confessando «In verità non sono Mehmet cara ma…» un colpo di pistola interrompe il silenzio notturno Zuleya cade a terra colpita e a canne pietrificato un grido muto in gola un attimo di pura gioia si tramuta in un dramma che sconvolge l'anima di Terra Amara. Si chiude così un altro capitolo avvincente lasciando una scia di domande sospese nell'aria. Il destino di Zuleya rimane incerto. L'episodio si conclude ma la narrazione di Terra Amara prosegue con la promessa di nuovi inattesi sviluppi. Restate sintonizzati poiché la prossima puntata serale salterà la messa in onda di domenica 4 febbraio. Ma c'è una bella sorpresa Terra Amara andrà in onda sia mercoledì che giovedì sera. Non dimenticate di seguire il nostro canale YouTube News Soap di iscrivervi per non perdere gli aggiornamenti e di lasciare un like al video per mostrare il vostro apprezzamento. Grazie a tutti.